Un giocatore fondamentale, al di là di impegni che ha avuto, perché anche con la Nazionale ce l'ha portato via, ma ci siamo mai giocati anche il secondo tempo con il Crotone, con tante cose, però in generale da tre anni che sono qua è un giocatore importante, un giocatore che deve stare bene, è chiaro che la sua condizione fisica è importante, però adesso a di là della condizione fisica, quello che ho detto anche tante altre volte, credo che sia ancora di più la situazione mentale, proprio nervosa. Sta bene, non diciamo niente perché sentivo anche ieri, sembravamo tutti convinti di recuperare anche Martini, poi non è andata così, però giustamente è un giocatore per noi importante, come lo sono tanti altri, come lo sono un po' tutti, è chiaro che lui ha un peso specifico, come detto, determinante. Per me non ha una fase realizzativa, però nel lavoro è un giocatore per noi, è un altro giocatore determinante, ha giocato tanto, continuerà a giocare tanto, al di là degli errori che uno può fare, però nell'economia di una squadra per noi, lui è un giocatore molto molto importante.